Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su youtube per reagire al blog che è uscito ieri sera Il 24 agosto, sabato Non l'ho registrato ieri, mi ricordo perché è uscito alle 19 Non ho capito perché non per le 17 Nel titolo infatti dice spongebob power ups in Brawl Stars Ovvero che arriveranno dei power ups a tema spongebob su Brawl Stars Però adesso vedremo che cosa sarà di preciso Intanto i sottotevatori li abbiamo attivati Ok iniziamo subito Alla tema di spongebob proprio Ok la collaborazione Due nuovi brawler Alcune novità che faranno paura Spongebob Season C'è il tema che è molto bello raga Ok E' il primo bello questa raga di Spongebob Ah nell'avvento del club Ah nell'avvento del club Ah nell'avvento del club con dei potenziamenti mh, interessante vabbè, ognuno ha le sue caratteristiche diverse e può essere migliorato fino al terzo rivelo oh, no, ma come si è... no, ma vai per distruggere i muri con i colpi normali se i uomini sono bassa, i tuoi attacchi saranno subito, se hai una spatula anche se hai un boost di speed e si diventano invisibili quando difediati l'artilleria e, secondo me, questi diventeranno tutti OP, diciamo diciamo, varie caratteristiche per vari brawler come lanciatori, tiratori ok, diciamo, in varie modalità soltanto i crubs sono trovati dentro deliziosi power mills la nuova cura di culinari Mr. Krabs ha preso questa opportunità di aprire una nuova start in Starbox in cui si tratta di power mills e si tratta di power mills e si tratta di power mills e si tratta di power mills però questa volta a te hanno Spongebob però questa volta a te hanno Spongebob qui trovi diversi offerti e è anche il posto per ottenere le schienze dei vostri spongebob caratteristiche quindi, come ti tratta di Krusty Cash? Mr. Krabs ha deciso di dare alcuni di questo non hai mai parlato di una economia molto sostenibile? ah, li danno pure per la prima vittoria e tra essi, vabbè diciamo se mi raccoglie il getto di stella che c'è stato per l'evento della Mega Rass ah, nuova modalità raga, 3v3 che più 5 secondi ti ne raccoglie di più vinci ti ne raccoglie di più vinci non ho capito che invece ne saranno altre di modalità vabbè, vabbè, vabbè va a vedere la evoluzione del gioco ma ma l'animazione è proprio piccolissima nooo, fa un botto di danno eh, secondo me è forte poi vedremo tutto come sembra esatto una pecca non fa danni in urni il 29 agosto no, bro il legendario Kenji insomma, Rai ma ma che cosa fa? fa scatti in tutta una mappa ah, fa tipo una X come vedo dove buttare ulti insieme alla sua uscita pure la skin il 9 Everdrive ah interessante così si cura di più Mortis vabbè livello 5 no, ma così in generale diventa battibile ma ora parliamo tema Halloween ecco adesso parliamo di Halloween eh bella 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 questa è bella 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 E niente raga, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto, intanto vi lascio giù nella descrizione il pin gratuita, anzi l'icona gratuita per discutere su ProStars, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani nel prossimo video, bella raga.